I carabinieri del comando provinciale di Crotoni, con il supporto dei colleghi dello squadrone riportato cacciatori di Calabria, hanno eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di 31 persone per 15 delle quali è stata emessa la custodia in carcere, per 7 gli arresti domiciliari e per 9 l'obbligo di dimora. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, danneggiamento, associazione per delinquere, finalizzata la commissione di reati in materia di stupefacenti, nonché per numerosi reati in materia d'armi, di sostanze esplodenti e di stupefacenti. Sono partite da un episodio estorsivo ai danni di un imprenditore di Cutro le indagini dei carabinieri, che hanno portato all'esecuzione di 31 misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della DDA di Catanzaro, 15 in carcere, 7 domiciliari e 9 all'obbligo di dimora, nei confronti di presunti affiliati a Cosche del Crotonese. Le indagini condotte dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crotone si sono ben presto allargate, oltre all'episodio fotografando le dinamiche del locale di Indrancheta di Cutro. Dopo l'arresto del boss Nicolino Grande Aracri e il suo successivo tentato di collaborazione, poi venuto meno, per acclarata inattendibilità. E' emersa così la presenza della famiglia Martino, già collegata a Grande Aracri, al cui vertice, secondo l'accusa, c'è il capodetenuto Vito Martino, composta principalmente dalla moglie e dai due figli, attivi sul territorio di Cutro, in contrapposizione ai Ciampadragone, che ha cercato di affermarsi sempre più come famiglie di Indrancheta autonoma. Sono stati così raccolti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati commessi, con le modalità tipiche dell'associazione mafiosa, ed in particolare all'esistenza di una bacinella, finanziata anche tramite lo spaccio e lo smercio, in forma associativa, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, sulla direttrice Cutro Cosenza Catanzaro e, soprattutto, nel capoluogo per il sostegno economico di affiliati e famiglie dei detenuti.